Come ogni anno sono numerosi gli eventi organizzati dal premio nazionale Paolo Borsellino è giunto la sua 32esima edizione. Diverse le tematiche che verranno affrontate in particolare nelle scuole delle province di Teramo, L'Aquila e Pescara. Domani 6 febbraio prenderà il via il progetto Abruzzo contro il bullismo che quest'anno taglia un importante traguardo. Arriva la sua quinta edizione e in questa occasione si arricchisce dei nuovi appuntamenti e novità. L'edizione 2024 ha quindi l'obiettivo di raggiungere sempre più giovani, famiglie, scuole, docenti e cittadini. Tantissimi appuntamenti a partire dalle scuole, nei teatri, nelle piazze. Come lo facciamo? Con linguaggi differenti. Le testimonianze rimangono il concept principale del premio Borsellino ma poi abbiamo i linguaggi del teatro, della musica e un grande appuntamento che vedrà la città di Pescara insomma collaborare con tutte le scuole del territorio con un grande corteo contro le mafie. Non dimentichiamo in ultimo le attività che il premio Borsellino ha già iniziato quest'anno con il ricordo della Shoah, con la memoria ma assolutamente quello che vediamo anche qui e partirà nei prossimi giorni è l'appuntamento con il bullismo. Quindi ecco un parterre di tanti ospiti, di tante testimonianze ma dove al centro sono e resteranno sempre i ragazzi. All'evento di presentazione ha preso parte anche il prefetto Vittorio Rizzi, da marzo 2019 vice direttore generale vicario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, direttore centrale della Polizia Criminale e vice capo vicario della Polizia di Stato che da fine 2023 è diventato anche presidente del premio nazionale Paolo Borsellino. Io ho il privilegio di presiedere in questa edizione il premio Borsellino, ho dato il cambio al collega Luigi Savine e quindi un po' adesso si è creata questa tradizione dei vice capi della Polizia. Oggi in questo evento presenteremo le iniziative, soprattutto per la parte delle iniziative di legalità, il pulmano azzurro, una vita da social, la presentazione del film di 42esimo parallelo sui ragazzi delle scorte, parleremo di sicurezza e parleremo di prevenzione. Questo è anche frutto del grande lavoro che l'associazione Società Civile sta portando avanti proprio dentro le scuole? Assolutamente sì, il merito non è della presidenza ma è dell'associazione che non solo coltiva la memoria ma coltiva l'educazione e la legalità.